Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione flash del nostro TG che apriamo con la cronaca. Litigan un pub cittadino, durante la lite spuntano a pistola revolver, l'arma era stata rubata in una abitazione. Per un 55enne retino sono scattate le manette. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di porta abusivo di arma, resistenza e danneggiamento. Si tratta di un uomo di 55 anni abitante ad Arezzo, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di una pistola revolver oggetto di un precedente furto in abitazione. Tutto è nato in un pub di via acuto ad Arezzo, dove l'uomo non ha gradito una birra che gli era stata servita e ha aggredito la cameriera scagliandosi poi contro un cliente che la difendeva. Quando è tornato nel pub aveva una pistola dentro un marzupio cercando di trovare l'uomo che aveva difeso la cameriera. Non trovandolo si è dileguato ma i presenti sono riusciti a prendere il numero di targa e a avvisare la polizia. L'assalitore si è allontanato per poi andare in un altro bar della zona del villaggio Dante. Poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciarlo. Alla loro vista ha tentato di disfarsi del marzupio ma senza riuscirci. Dentro era nascosta una pistola revolver con cinque colpi nel tamburo e cinque munizioni libere. L'arma era stata rubata in un'abitazione otto anni fa. Subito è scattato il sequestro della pistola e delle pallottole. L'uomo è stato invitato a seguire gli agenti in questura. Il 55enne non è stato però collaborativo opponendo resistenza fino a sfondare il vetro della portiera posteriore della macchina di servizio. Per lui è scattato l'arresto per il reato di porta abusivo di arma e per le sue condotte di resistenza e danneggiamento. Adesso la politica lo aveva anticipato la scorsa settimana proprio davanti alle nostre telecamere. Lo ha ribadito anche oggi. Alessandro Ghinelli non sarà della partita elettorale il prossimo 25 settembre. Dopo Luciano Meoni, sindaco di Cortona e Silvia Chiassai, primo cittadino di Montevarchi, anche l'ultimo sindaco della nostra provincia di un comune, sopra i 20.000 abitanti, che entro domani doveva dare la sua disponibilità per una possibile candidatura con le dimissioni dall'incarico assegnato dai cittadini, si è chiamato fuori. Parliamo di Alessandro Ghinelli, primo cittadino di Arezzo che, con un post che ha pubblicato questa mattina, ha sostanzialmente ribadito quello che ci aveva anticipato la scorsa settimana dopo il suo endorsement per Draghi. Niente candidatura anche perché nessuno lo ha cercato, ha scritto nel post, ma se lo avessero fatto, ha ribadito Ghinelli, sarei rimasto per chiudere il mandato nella maniera migliore possibile. Ghinelli ha puntualizzato sempre nel post che dimettersi in questo momento non avrebbe avuto alcun senso. La mia volontà, ha scritto, resta quella di onorare il patto con i cittadini. Riguardo alla uscita pro Draghi della scorsa settimana e i successivi mal di pancia in casa Fratelli d'Italia, nessuna novità. O meglio, se qualcosa c'è stato e rimasto nei meandri di Palazzo Cavallo. Una cosa però è certa, quell'uscita sicuramente non avrà fatto piacere alla leader di Fratelli d'Italia. Lutto in casa Macri per la scomparsa del dottor Saverio, per tanti anni medico condotto a Civitella in Valdichiana. Macri aveva 89 anni, originario di un centro della Calabria, si trasferì ad Arezzo, dove esercitò la sua professione prima in ospedale e poi nella condotta di Civitella, dove risiedeva con la moglie. Impegnato anche nelle attività sindacali, sia a livello locale che nazionale, Saverio Macri è sempre stato in prima linea per la riforma del rapporto medico-paziente. Grazie alle sue proposte contribuì alla costruzione dei distretti sociosanitari. La salma è stata esposta nella sala consigliare di Civitella. I funerali saranno celebrati domani mattina da Don Alvaro Bardelli alle 11 e 15 nella chiesa di Badia Alpino. Molteplici i messaggi di cordoglio alla signora Vincenze e ai figli Pasquale e Giuseppe, Giovanni, Giuseppina, Francesca e Antonio, commosso anche il ricordo del nipote Francesco. Non è stato un lavoro semplice contenere e spegnere il fuoco che si è sviluppato nella collina di Castel San Nicolò ieri sera. Vediamo. Ci è voluta tutta la notte per avere ragione dell'incendio che è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri a Castel San Nicolò in Alto Casentino. Le fiamme sono partite da tre punti diversi. Facile immaginare che l'origine non sia stata accidentale. Subito hanno attecchito aggredendo una zona limitrofa al castello che rappresenta il centro storico del comune casentinese alle porte del Prato Magno. L'area, grazie all'intervento di uomini dell'Unione dei Comuni, della racchetta del servizio regionale antincendi, è stata circoscritta e per domare il fuoco si è reso necessario l'intervento degli elicotteri che hanno effettuato più servizi. Purtroppo, anche se l'operazione è stata circoscritta ancora in mattinata, la situazione presentava alcuni punti non facilmente raggiungibili e quindi c'erano elementi di criticità. Molti gli operatori che sono stati utilizzati per spengere il fuoco si è reso necessario il cambio nella notte per garantire un servizio ancora più efficace. Situazione difficile e delicata per le associazioni che operano nell'attività di soccorso alla persona. L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ANPAS, si fa portavoce delle difficoltà che devono affrontare. Le associazioni impegnate nel soccorso alla persona lamentano uno stato di oggettiva difficoltà. Presidente Ferrini, quale in particolare? Ma guarda, noi siamo ANPAS, le nostre associazioni nel territorio retino sono cinque, Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi, Pubblica Assistenza Casentino, Croce Bianca Rigutino, Croce Bianca Rezzo e Pubblica Assistenza Avis di Foiano. E tutti noi abbiamo fatto anche un consiglio ultimamente e tutti versano in difficoltà economica. Prima di tutto per i rincari che ci sono stati nei carburanti, per cui viaggiare in questo momento è diventato carissimo. E poi anche per i rincari dell'energia. Per di più c'è anche un po' di crisi per quanto riguarda il volontariato. Noi facciamo appello alla cittadinanza perché venga nel volontariato, ma con questa crisi che c'è stata per il Covid sono diminuiti e quindi versiamo in uno stato di necessità effettivamente. Voi chiedete di essere ascoltati dalle istituzioni, di porvi come interlocutori delle istituzioni. Sì, noi ci siamo rivolti alle istituzioni, in primis anche alla regione toscana, per avere dei ristorici. Qualcuno si dovrà occupare della situazione emergenziale anche economica, indubbiamente, questo senz'altro. Ma non è questione soltanto di soldi perché noi vogliamo essere ascoltati. Prossimi incontri in programma con le istituzioni? Prossimi incontri in programma anche domani con la regione toscana a Firenze. Poi ho visto che molti fanno comunicati in questo momento, come in Arezzo, come in Siena, eccetera, eccetera. Però bisognerebbe che ci ascoltassero un po' di più e ci interpellassero anche prima di fare comunicati. Lo gradiremo, ecco. Cambiamo argomento. Ricco il cartellone del Mammut Jazz Festival. Prima tappa il prossimo 28 luglio alla Torre di Civitella. Il Mammut, ce lo abbiamo, è proprio Emanuele Petrucci che cura le file tecniche di questa manifestazione che si snoda in gran parte della Valditiana. Il pezzo forte quale sarà? Ogni serata ha una sua peculiarità. La musica varia perché alla fine il jazz è un contenitore che accoglie diverse tipologie di stili. Quindi andremo da serate più contemporanee, quindi più elettroniche, a serate più standard. Sarà un festival per tutti i gusti. Ecco, allora ci puoi sintetizzare le serate iniziando proprio da Civitella? Allora, a Civitella ci saranno i Ghost Horts che sono un gruppo, una formazione giovane e interessante quindi è un giusto connubio appunto fra contemporaneità e classicità. Poi passeremo all'Ucignano, ci sono i Storytellers guidati da Simone Alessandrini e anche quello sarà un concerto molto interessante all'insegna della contaminazione fra standard e contemporaneità. E a Foiano? Allora a Foiano ci sarà Giustine e Mop Mop e quindi andremo un pochino più spostati verso la contemporaneità e sarà una giornata interessante ricca anche di altre tipologie di eventi. velocissimamente a Rezzo, Castiglioni e Castiglioni del Lago. Allora, ad Arezzo saremo sullo studio di registrazione di Ponticelli, quindi a Sargiano e lì verrà effettuato un concerto più classico, mentre poi dopo saremo a Castiglioni Fiorentino con un solo pianoforte che sarà molto interessante, è una serata più contemplativa e poi alla fine ci sarà il botto a Castiglioni del Lago in cui ci saranno diversi gruppi fra cui LNDFK che è una cantante molto interessante, contemporanea, che farà ballare tutti. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo. La seduta in programma domani, giovedì, a partire dalle 9. Tra i principali argomenti all'ordine del giorno figurano le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche e al bilancio, 3 pratiche urbanistiche, il regolamento per l'accesso e l'utilizzo delle aree per cani e 16 tramozioni e atti di indirizzo. E adesso parliamo di Vela, perché seconda giornata di regate per il campionato mondiale di vera microclasse che si sta svolgendo al Lago Trasimeno, soddisfazione per il club velico castiglionese che ne è l'organizzatore e che nella settimana scorsa ha visto il suo atleta Niccolò Giallarani, secondo al campionato mondiale di Bordeaux Open Schiff Under-17. Un momento importante per Castiglione del Lago, ma soprattutto per tutto il Lago Trasimeno, dobbiamo dire perché in questo comprensorio si sta svolgendo, grazie al club velico castiglionese, il campionato mondiale proprio microclasse. Due squadre naturalmente per il club velico castiglionese. Sì, abbiamo due squadre, una un pochino più esperta, un'altra formata da ragazzi del gruppo sportivo che vanno sulle derive, il nostro equipaggio di punta in questo momento dopo due prove è quinto, l'altro è ventottesimo e comunque speriamo ora di migliorare, ancora ci sono quattro giorni di regata e quindi sicuramente miglioreremo. Chi sono naturalmente gli atleti proprio di tutte e due le squadre? Le due squadre sono formate, una da Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi che hanno anche vinto un mese fa l'italiano della micro a Venezia, il secondo è formato da tre bellisti che si sono uniti in questo momento e sono al timone Isabella Conciarelli, al centro Michele Barbieri e in prua Lisa Zucchini. Ma quante sono le squadre che si sono iscritte a questo campionato mondiale? Gli iscritti sono 36, rappresentanza di 8 nazioni fra cui l'Australia e gli USA e la più numerosa è l'italiana, viene seguita subito da quella polacca. Abbiamo lavorato per organizzare questo mondiale praticamente dallo scorso anno e crediamo di essere riusciti a fare le cose al meglio, cosa difficile perché ovviamente parliamo di tanti equipaggi, parliamo di un'organizzazione complessa, molte cose sono in lingua inglese quindi ovviamente trattandosi con tanti stranieri e quindi a difficoltà si aggiungono altre difficoltà, però diciamo che ci siamo riusciti, fino ad oggi va tutto bene. Bene, questa sera sulla nostra emittente Subito Dopo il Tg potrete assistere a 9.10, quest'oggi si parla del Terra Nuova Traiana per la prima volta nel campionato di Serie D. La serata proseguirà con Calcio Toscano Calcio Giocato, settimanale in diretta dedicato a tutto quello che sta succedendo nel mondo del pallone in Toscana e al termine incontri al Caffè della Versiliana. La puntata di oggi ha come titolo Coca Web, una generazione da salvare. Ospite Andrea Cangini, senatore e già direttore della Nazione. È tutto per questa edizione pomeridiana del nostro Tg, grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.